Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Capodanno con maltempo invernale, neve a quote molto basse. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 1 gennaio. Maltempo al mattino al nord con neve a quote basse o di pianura sui settori occidentali, piogge temporali anche sulle regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania. Al pomeriggio fenomeni al nord e sulle regioni tirreniche del centro, neve in pianura al nord-ovest e oltre i 900-1300 metri sulla dorsale appenninica. Maggiori schiarite al sud. Il serato è notato che il maltempo insiste sull'Italia e si estende anche alle regioni del sud, in particolare su Campania, Sardegna e Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord e in lieve calo al sud nei valori minimi, massime in calo al nord e in aumento altrove. Per ulteriori dettagli seguite le revisioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.